Allora ragazze, vi è piaciuto lo spettacolo? Sì, ci è piaciuto veramente tanto. Come mai? Soprattutto è stato molto divertente e ha parlato del rapporto tra il padre e il figlio, mettendo molta ironia, parlando anche di politica, scherzando, facendo battute, quindi ci è piaciuto tanto. Avete rivisto qualcosa di voi e del vostro rapporto? Soprattutto quando parlava del rapporto in casa, del fatto che i figli vogliono l'attenzione, quindi magari vanno male a scuola, e sì, ci è piaciuto.